Let's go! Ciao, bentornati sul mio canale! Oggi faccio un'intervista a Mondeando! Mi piacere essere qua! In particolare Ilaria, Tito, Luca, che hanno intrapreso un viaggio nel Sud America. Prima iniziato da loro, per quanto tempo? Sud America ha otto mesi, però noi prima siamo stati altri tre, sei mesi tra Asia e Oceania. Asia e Oceania, fantastico! E Luca ha proseguito il loro viaggio con... quanti giorni sei stato in Sud America? 17 mesi, ovvero 512 giorni. Sei invecchiato praticamente in Sud America. Anzi, mi ha detto Luca, informalmente, che lui non sapeva parlare nemmeno l'inglese tanto bene, e invece ha imparato ben due lingue, spagnolo e portoghese. Esatto, l'inglese è ancora un po' dovevamo lavorarci. Ci dobbiamo lavorare un po'. Ma un anno in Australia magari potrebbe aiutare. Allora, io come al solito, sapete, sono molto curiosa sul fatto perché uno parte, da dove gli viene in mente di partire e soprattutto cosa si porta a casa? Perché siete partiti? Avete lasciato il lavoro? Cosa è successo? Avevamo voglia di viaggiare e abbiamo studiato questo tipo di viaggio e abbiamo visto che ce la potevamo fare. Abbiamo detto dai, proviamoci. Curiosità, curiosità di conoscere, di vedere i posti che avevamo sempre letto sui anni. e avete dovuto lasciare il lavoro per partire? Eh sì, è stata la parte più bella. E come, la domanda delle domande, come vi sostentavate dal punto di vista economico? Eh, con i risparmi messi da parte negli anni di lavoro, non abbiamo avuto altri punti di guadagno. Sì, comunque, avevamo lavorato parecchi anni, quindi spendendo poco e trovando degli stratagemmi, autostop, piuttosto che... Couchsurfing. Couchsurfing, woofing, tutte queste piattaforme che adesso aiutano tantissimo a stare in giro per molti giorni abbassando veramente il budget al minimo. Quindi non è, non c'è bisogno di essere straricchi per fare un viaggio anche di più o meno. Bisogna avere tanta voglia di adattarsi e tanta... Spettacenza più. Sì, esatto, spettacenza più. Sì, esatto. Ma voi non lavoravate lì? Cioè, avete passato tutto il periodo solo a girare, a conoscere, non avete mai fatto esperienze di lavoro neanche brevi? Neanche tu, Luca? Io ho fatto volontariato più che altro, però lavoro vero e proprio no. Vi è cambiata la vita dopo questo viaggio? Eh, sì, ovviamente. Che cosa vi portate a casa del viaggio, cioè di tutto questo progetto che avete... Esperienze, posti, persone, un modo nuovo di pensare, di vedere le cose, di ragionare, di vivere. Si vede magari nelle piccole cose che fai, non è che sei cambiato proprio radicalmente, che non ti si riconosce più. Però dentro ti senti che la vedi in un modo diverso. Abbiamo una certa senerenità adesso nell'affrontare la vita quotidiana, la routine, tutto quello che... Diciamo, Comoda, provincia di Varese e Milano, che sappiamo benissimo che è una vita abbastanza stressante. Eh, è vero. Il posto più bello che avete visto? Lo so che è difficile. La domanda delle domande. E ce ne sono tanti, ce ne sono. Uno che vi è rimasto nel cuore, che dite, ah, Corolini, me lo ricordi. Anche come esperienza, Nuova Zelanda. Baccalari in Messico. Baccalari in Messico? Baccalari in Messico, lui dice Nuova Zelanda. Nuova Zelanda, sì. E io dico Colombia. E perché? Uno per l'America. Colombia perché è un concentrato di posti spettacolari, di gente meravigliosa, proprio sono tutti pronti ad aiutarti. E' completa, vai dai deserti all'Amazzonia, ai fiumi, c'è l'Oceano Pacifico, il Mar del Carribe, città coloniali. C'è tutto. C'è tutto. E' un sogno. Esatto. E il Brasile no, Luca! Il Brasile in realtà è perché sono arrivato che non sapevo bene la lingua. Perché se no, anzi, non la sapevo del tutto la lingua. Quando ho iniziato a parlare un po' portoghese, stava scalando la classifica vertiginosamente. Ah, eccomi. Poi non puoi tornare a casa, non c'è stato. Ripartirete? E se sì, quando e per quale luogo? Partirete sarebbe bello, quindi speriamo di sì. Quando, dove, è tutto da vedere. Tito, dimmi qualcosa. Che cosa invece non ti è piaciuto del viaggio? C'è stato qualcosa che non ti è piaciuto del viaggio, che avresti fatto in maniera diversa? No, no. Ripartirei subito. Io una cosa ce l'ho, il dover muoversi totalmente con autobus o comunque essere sempre dipendente da questi fattori. Mi sarebbe piaciuto magari avere più autonomia, magari con un mezzo proprio, sarebbe stato tutto completamente diverso. Avrei magari avuto meno relazioni umane con le persone perché avrei fatto un viaggio più solitario, però in realtà ne avrei guadagnato soprattutto in posti da visitare. A proposito, Luca diceva appunto un viaggio solitario, cioè loro sono partiti in coppia e lui è partito da solo. Insieme alla nostra amica carissima, il filo di Michi, Nicoletta Crisponi, che lei è partita in solitaria, mi chiedo quanto possa essere difficile o interessante essere da soli in un viaggio. Forse Luca... Certamente viaggiare da soli è totalmente diverso che in coppia. Ho provato di tutto, ho provato a viaggiare con loro, ho provato a viaggiare con amici, ho provato... Però da soli ti si apre un mondo, ti scopri te stesso e sinceramente... Era un mondo che non conoscevo e adesso sarà difficile tornare a viaggiare con altre persone perché... Ma non ti sei mai sentito solo? No, in realtà sei sempre con persone. Il Sud America aiuta tanto, le persone ti aiutano e non ti sentirei mai da solo. Poi stando in ostelli, dormendo in ostelli, è impossibile veramente. Anzi, a volte cercavi te la solitudine. Oh ma mollatevi! Esatto, avevi proprio bisogno di tuoi spazi e cercavi di isolarti anche quando non avevi troppa voglia di parlare. Un consiglio che volete dare ciascuno di voi per chi ha voglia di fare un viaggio di più lungo, diciamo, di una classica vacanza, quindi di uno, due, tre mesi almeno. Un consiglio? Non abbiate paura, che il mondo è meno pericoloso di quello che vi vogliono raccontare. Sì, se uno lo sente dentro deve partire, basta, senza rifletterci più di tanto. Tanto poi ci sono un sacco di opportunità, un sacco di situazioni. L'importante è fare il primo passo, comprare un biglietto, decidere dove andare e poi tutto viene. L'ultimissima domanda, giusto per curiosità, quanti anni avevate quando siete partiti? E l'età giovane ha aiutato? Anche per dire, mollare il lavoro, non ho figli, non ho famiglia, non ho... Allora, posso farlo? Ovviamente. Più che l'età giovane, il non avere questo tipo di vita, perché ovviamente parti con te stesso e basta. Sì, senza avere un mutuo, senza avere niente, è il modo migliore di partire. Poi noi in giro abbiamo incontrato un sacco di gente di tutte le età che faceva tutti i tipi di viaggi immaginabili, quindi l'età... In realtà non c'è l'età per viaggiare. Bravo, era questa la risposta, non c'è l'età, perché io che sono vecchia viaggio lo stesso. No, scherzo. Va bene, grazie mille, Mondeando, seguiteli sulla pagina Facebook, avete Instagram, anche avete un canale YouTube? No, abbiamo un canale YouTube. No, abbiamo un canale YouTube, però i suoi social network postano praticamente tutti i giorni, quindi seguiteli, mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale perché io intervisto sempre gente che ha voglia di viaggiare, conoscere culture e soprattutto che è mezza pazza, come me. Brava. L'hai detto. Grazie ragazzi, ciao. Ciao. Ciao.